Atti sessuali continuati commessi nel 2018 ai danni di una minore. Ne deve rispondere un 42enne condannato nell'ottobre 2022 e arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri di Marostica. Il giudice ha disposto per lui quattro anni di reclusione, oltre all'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e il divieto per un anno di avvicinarsi a luoghi frequentati da minori e svolgere lavori che prevedano contatti con minori, oltre all'obbligo di informare gli organi di pubblica sicurezza su residenza e spostamenti. La denuncia era stata sporta sei anni fa ai carabinieri di Bassano dai genitori della giovanissima vittima nei confronti del 42enne, che a quel tempo frequentava con assiduità la loro abitazione. Partite le indagini, coordinate dalla procura di Vicenza, i militari avevano raccolto le prove necessarie per convalidare il reato. Ora l'uomo si trova rinchiuso al carcere San Pio X.